bella rodriguez sta scrivendo un libro approfittando della quarantena da coronavirus la confessione è arrivata dal salotto di verissimo il programma di silvia toffanin sta mandando in onda storie vecchie ma anche alcune nuove ovvero dei video che i vip inviano alla redazione uno di questi è arrivato da belen mi sono messa a scrivere tanto ho scritto me stessa la mia famiglia mio marito ho scritto mio figlio sono cose che mi rimarranno perché ho scritto proprio belen in quarantena parole che lasciano facilmente immaginare che la sudore argentina stia pensando di raccogliere quanto ho scritto in un libro chissà magari potrebbe ripercorrere il successo letterario della rivale giulia dell'annis cosa ne pensate riguardo scrivetemelo nei commenti se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate like di supporto ciao 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 ciao